Al via da domani l'anagrafe online, cioè la possibilità di scaricare da casa i certificati digitali. Ad inaugurare il nuovo servizio via computer il presidente Mattarella, Giampiero Scarpati. Il rumore di fondo è quello della stampante del computer del suo studio al Quirinale. Il presidente della Repubblica Mattarella scarica il primo certificato digitale. Da domani potranno farlo tutti gli italiani in maniera autonoma, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche all'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it È la prima di una serie di innovazioni tecnologiche che la pubblica amministrazione implementerà per migliorare la vita di tutti. 14 certificati scaricabili direttamente dal computer di casa possono riguardare anche un componente della propria famiglia. Dall'anagrafico di nascita, a quello di cittadinanza e residenza, fino allo stato di famiglia. Questo devo dire che va a incidere sia sulla mobilità delle nostre città, sia consentirà di alleggerire l'impegno delle amministrazioni comunali. Al portale si accede usando la propria identità digitale, SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Per i certificati non si dovrà pagare il bollo, saranno quindi completamente gratuiti.